...fasca aprire per te la sorgente del battesimo, infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, una grazia a te. Affendendo l'esercimento del battesimo, l'uomo fa da tua immagine e si è lavato dalla macchia del peccato, dall'acqua e dallo Spirito Santo, per una scavola che è a te. Buongiorno. Grazie.